attese impazientemente l'ora dell'appuntamento con la luma la quale aveva da riferire le condizioni di salute della fata la lenta ambasciatrice questa volta non si fece attendere molto solo cinque ore di ritardo non appena pinocchio intravide le due antenne che spuntavano da dietro un cespuglio si precipitò e disse presto l'umahina dammi delle buone notizie la bestiolina arrivò tutta trafelata come inseguita da una sciagura con la lingua impastata le parole che non sembravano intenzionate a venire il re abbracciò i suoi cari e disse ero solo e triste quindi povero quanto il più povero dei miei sudditi ora che ho voi accanto finalmente sono re perché si è veramente re solo quando c'è ricchezza d'animo nei cuori c'era una volta diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta pezzo di legno che forse divenne re Firenze 21 ottobre 1890 firma Carlo Collodi